Questa è Radio Inagrigento, il Beppiciolo, ricordo, tutti i martedì e giovedì dalle 17 alle 19 siamo entrati pienamente in aria dance e quindi abbiamo il piacere, abbiamo proprio il piacere di sentire un amico in collegamento, un DJ producer e lo raccolgo con un benvenuto qui su Radio Inagrigento al nostro amico Claudio, ciao! Buongiorno, buongiorno a tutti, buon poveriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Inagrigento e soprattutto grande a te Giuseppe che mi ha dato l'opportunità di poter conoscere la mia personalità per i vostri studi, ecco. Ecco, caro Claudio, insomma il nome d'arte di Claudio, qual è diciamolo chiaramente a tutti? Il nome d'arte è Gioida New. Oh, perfetto, che è un DJ producer siciliano, di dove sei? Esattamente della provincia di Messina, però di un paesino, ecco, limitro qua alla provincia precisamente è Venetico Marina. Venetico Marina, che posto fantastico, gente, incredibilmente queste state sono state da delle sue parti ed è un posto molto carino, molto curato, un'acqua splendida, è vero Claudio? Esattamente, sì, è una meta, diciamo, turistica per un po' le parti d'Italia e anche, diciamo, della gente estera, ecco, che comunque in estate affolla molto il paese e quindi dà anche molta, come si dice, molta, come possiamo dire, una felicità interiore che comunque fa davvero bene, ecco, fa vivere dei momenti davvero speciali. Ecco Claudio, tu sei DJ ma da quanti anni, perché sei giovanissimo, quanti anni hai Claudio? Eh sì, io tra poco compierò 19 anni, proprio tra qualche giorno e diciamo che il DJ lo faccio da pochi anni, ecco, da circa 15 anni, ecco, per essere più pignoli. E ti sei anche cimentato nel creare dei brani, nel fare musica tua personalmente, quindi un po' di fantasia l'hai messa sua, eh? Sì, esattamente, anche perché tutto era nato per fare il DJ e poi con l'andare del tempo, con la scoperta, ecco, della tecnologia, degli ambienti e degli artisti anche di un certo calibro, ti rendi conto che alla fine hai spazio alla tua artisticità anche in campo musicale, non solo in ambito, ecco, diciamo, degli eventi. Ecco, noi abbiamo preparato tre brani, vorrei che mi dassi qualche spiegazione in ognuno di essi, cioè come nasce, da quanto tempo è stato creato. Per esempio, nella playlist tu hai menzionato tre brani, ti do i titoli, magari mi parli ognuno di essi. Sinergy è stato il primo disco che è uscito sotto un'erichetta discografica, esattamente pubblicato il 20 ottobre del 2014, e appunto questo è stato un brano molto significativo perché è stata la prima produzione che è uscita a livello proprio ufficiale su un'erichetta discografica e quindi su tutti i portali, gli store principali per la compravendita di musica. Quindi il primo brano a cui sei molto legato, perché insomma il primo amore non si scorda mai, si dice solitamente. Anche perché è Destino Molle che fu la produzione che ha avuto più riscontri, ecco. Ecco, questo è molto positivo, poi per esempio in playlist andremo a sentire e a seguire Boom Boom! Boom Boom, sì, Boom Boom è il secondo disco allo stile Bones, che come sappiamo è lo stile che è andato abbastanza parecchio di moda anche adesso, nell'ambito dance chiaramente, è stata una produzione che è uscita esattamente tre mesi dopo Sinergy, anche lei con un discreto successo possiamo dire, in ambito nazionale e anche, possiamo dire anche all'estero ha fatto abbastanza e nulla, è un disco che è andato parecchio discreto. Ecco, per concludere poi credo che poi in ambito di tempo per produzione c'è questo Delirio Summer Wind di Joe Da New insieme a Fismona. Sì, sì, esatto. In realtà nel frangente di tempo tra Boom Boom e questo disco ci sono stati dei remix ufficiali, dei contest DJ, svariati diciamo cose che hanno preceduto l'uscita di questo disco, che è l'ultima uscita che ho fatto, il genere in questo caso è un house più commerciale, quindi quelle sonorità più leggere, più radiofoniche per così dire, e sì, è stata una collaborazione con altre due artisti che cantanti e quindi diciamo è uscita questa produzione estiva, è uscita il, se non erro, il 22 di giugno, maggio, il 22 di maggio è uscita, sì sì. Una produzione nuovissima insomma. Esatto, esatto. Ecco, ma nel tuo futuro che progetti ci sono per esempio? Il mio futuro infatti ne parlavo proprio oggi con un caro amico che in pratica il futuro ormai è decisamente cambiato perché come sappiamo gli andamenti musicali oggi sono del tutto molto vari e soprattutto purtroppo ahimè hanno una breve vita perché c'è troppo di tutto e questo troppo di tutto ha fatto sì che anche i dirigenti produttori che inizialmente avevano mantenuto una linea di produzione artistica nella loro vita hanno, sono dovuti essere costretti a cambiare e quindi automaticamente come diciamo i grandi artisti proseguono su di un'altra strada anche noi artisti emergenti cerchiamo di portarci avanti nuovi progetti, nuovi idee, quindi sicuramente dalla prossima uscita discografica ci saranno delle rivoluzioni in ambito più di sound e di metrica che è proprio di stile ecco. Insomma bella questa passione che già da così giovane hai iniziato ad esplorare con già delle soddisfazioni relativamente alla musica che crei caro Joe Danube. Sì 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 esatto esatto. Ecco vuoi salutare qualcuno prima di andare a sentire le tue produzioni? Sì volevo salutare la nostra amica Perla Nicol e soprattutto il mio caro discografico il grande Joe Bertè e tutta l'etichetta discografica che compone tutti gli artisti. Bene tu hai menzionato un personaggio vale a dire Perla Nicola è stata anch'essa protagonista io non so se avete scambiato qualche idea in questo senso e qui è stata anch'essa protagonista insieme come lo sei tu? Sì 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 siamo grandi amici da parecchio tempo ecco. Ecco allora a questo punto caro Claudio che abbiamo avuto il piacere di sentire adesso ti sentiamo invece anche in action con la tua musica sei pronto? Prontissimo alla carica. Ebbene allora noi vogliamo salutarti e ringraziarti per questo tuo intervento e ti auguriamo sempre tutto il bene in un in bocca e lupo per il tuo futuro ciao Claudio. Grazie e una buona serata. Grazie a te ciao ciao. Giuseppe Amorelli Bepi Show Giuseppe Amorelli Il Bepi Show Giuseppe Amorelli 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501